Una discarica di vaste dimensioni sott'acqua e la scoperta fatta dal CNR e dall'Università La Sapienza di Roma durante un progetto che aveva ben altri obiettivi, ovvero disegnare la carta geologica del fondale tra Reggio Calabria e Messina, a una profondità di mille metri e invece gli esperti si sono imbattuti in una distesa di rifiuti, tra l'altro ben assortiti Per capire di più il progetto e soprattutto come tutta quella masso di spazzatura sia finita in quella profondità abbiamo intervistato il responsabile della ricerca sugli impatti antropici sul mare profondo il professore della Sapienza e associato CNR, Francesco Latino Chiocci Lo stretto di Messina, a causa della sua conformazione geologica, è un posto quasi unico in Italia perché questi forti sollevamenti tettonici che fanno sollevare la crosta fanno sì che di avere catene montuose molto prossime alla costa e quindi delle fiumare con corsi molto stretti e ripidi che in corrispondenza di piogge catastrofiche possono portare grandi quantità di dedito come immagino voi calabresi ben sapete questo è vero per tutta l'area peluritana Allora, il fatto di aver trovato questi detriti a mille metri di profondità ci fece pensare che potevano effettivamente venire dai retti delle fiumare che per esperienza personale, sapevamo alcune volte, venivano utilizzati in maniera impropria come discariche abusive quindi facciamo con il CNR un progetto che si chiamava RITMARE con il quale andavamo a fare delle campagne esattamente nei canyon che si trovavano in corrispondenza della foce delle fiumare e troviamo quelle cose che avete visto che hanno concentrazioni di detriti di grande quantità che sono di ordini di grandezza più grandi e quelli mai visti in qualsiasi altra parte del mondo Abbiamo visto dal video che avete trovato addirittura un'automobile, una barca di tutto di più Sì, c'è tutta la barca, l'abbiamo trovata siamo riusciti a leggere un adesivo e abbiamo scoperto che era stata portata via durante una mareggiata sulla costa siciliana una trentina di chilometri più a sud quindi velocemente ha camminato lungo costa finché in qualche maniera si è infilata dentro il canyon ed è scesa e la macchina invece stava nel versante calabrese e abbiamo visto prima una ruota pensavo fosse solamente un copertore poi invece abbiamo visto anche le altre quattro e quindi è completamente sepolta dal sedimento escono fuori solamente le quattro ruote ma poi come avete visto c'è di tutto è più facile dire che cosa non c'è che non che cosa evidentemente sono mattoni, pezzi di plastica piatti insomma c'è quello che si può trovare in una da Calabria o da Sicilia siete stati interpellati da qualche ente da qualche associazione in questo momento assolutamente no per ora gli unici che ci hanno contattato è la stampa dopodiché se vuole un'altra preoccupazione che abbiamo a questo parlo come comunità scientifica in generale diciamo geologi, biologi, oceanografi è che attualmente siamo anche rimasti senza navi quindi questa ricerca l'abbiamo fatta due anni fa con una nave del CNR poi per problemi di budget sia il CNR sia l'OGS sia le università non hanno più navi oceanografiche e quindi in realtà questo tipo di investigazioni che hanno degli svolti sociali importanti oltre che scientifici di base in realtà oggi non si possono più fare quindi anche questa è un'altra preoccupazione se vuole che si aggiunghi quanto profondo il mio amore è un'altra preoccupazione è un'altra preoccupazione